Violenza in carcere, ancora un caso, l'ennesimo ancora un agente di polizia penitenziaria ferito. Casa circondariale San Pio X di Vicenza, un detenuto nordafricano dopo aver insultato e minacciato un poliziotto lo colpisce con pugni e calci procurandogli la frattura della mano. Prognosi 30 giorni. Un'aggressione che segue quella di una settimana fa quando sempre nell'istituto penitenziario vicentino un africano del Mali ha aggredito due agenti intervenuti a difesa di altri due detenuti attaccati dall'immigrato. La questione era finita in Parlamento con la deputata di Fratelli d'Italia Maria Cristina Caretta che aveva presentato un'interrogazione evidenziando la carenza di organico nel reparto di polizia penitenziaria di Vicenza. E mentre anche oggi il sindacato USP torna a chiedere al Ministero della Giustizia interventi urgenti dalla custodia aperta ai soli detenuti meritevoli alla dotazione di taser dei poliziotti, noi di Rete Veneta rilanciamo la necessità di realizzare finalmente un osservatorio sulle carceri. Una proposta che trova l'appoggio anche della Lega che chiede al sindaco Francesco Rucco di attivarsi con il governo. Noi come Lega avevamo già sostenuto la proposta appunto di Rete Veneta di formare un osservatorio sui carceri italiani, nello specifico un osservatorio sui carceri veneti. Porteremo però la questione sul tavolo del sindaco di Vicenza e presidente della provincia Francesco Rucco perché faccia sentire la nostra voce a Roma. Pretendiamo delle risposte. Gli agenti di polizia penitenziaria devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare in sicurezza senza avere la preoccupazione che qualche detenuto gli aggredisca come purtroppo ultimamente accade spesso.